Giovedì 28 aprile 2022 nella bella cornice di Dolonnè nel comune di Courmayeur vicino al Palaghiaccio. In un'arena naturale dominata dal Monte Bianco si è svolta una rassegna zootecnica di grandissimo interesse tenuta a battesimo dai comuni della Valdigne. Presenti i sindaci di Courmayeur, La Salle, La Tuile, Morgé e Pressandidier nell'arena tenute alla capezza dai singoli elevatori sono sfilate le più belle manze di razza valdostana pezzata rossa e pezzata nera e castana della Valdigne. I capi accuratamente valutati da esperti sono stati inseriti in un'apposita classifica e una selezionata giuria ha proclamato la regina della giornata ed ha anche premiato gli altri capi che per caratteristiche e postura si sono meritati l'onore della menzione. Evidente la soddisfazione di tutti gli allevatori presenti che con i loro animali hanno un particolare legame di affetto che traspare dalla cura con la quale li hanno presentati al numeroso pubblico presente alla rassegna. I presenti hanno anche assistito con entusiasmo all'arrivo degli alunni delle scuole di Courmayeur che indossavano cappellini riproducenti le corna delle manze impegnate nel concorso. Una bella iniziativa questa delle maestre con la quale come ha detto lo speaker della manifestazione si consolida ancora di più il legame e il riconoscimento del lavoro degli allevatori che con la loro giornaliera e dura attività concorrono non solo a mantenere alto il livello del patrimonio zootecnico valdostano ma anche a garantire la cura e la salute della montagna. Ma ecco il filmato con i passaggi più salienti di questa bella giornata. Allora ricordiamo ancora Zeppelin, valdostana pezzata rossa, proiezione di latrazione, 6.681 kg che riceve il premio da Riccardo Biella. Poi si può anche premiare più di uno, queste meritano anche di essere premiate in gruppo visto che sono le reine della comunità montana. oltre agli 800 allevatori valdostani e anche 300 allevatori piemoltesi. Facciamo un applauso a questa breva di la sede alle rosse premiata con tutte le autorità, con i sindaci e gli assessori all'agricoltura dei vari comuni. Le vacche hanno un indice genetico di 113,95 e uno di 113,79 che fa sì che entrambe siano il mondo femmine in selezione del nuovo libro genealogico. Voilà, una foto di rito per questa anche permita con i suoi allevatori e con gli amministratori dei comuni della Valdigna e Mont Blanc. Grazie. 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 Ok, allora un applauso anche a Mitra, grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. la lista completa di Luton Solle, che fico a lei se candidè a sostituire o a integrare lo consiglio uscente. Va bene, appena per esempio ho capitato su Enche, le passo il microfono a Lucio Bosonin per sapere come l'Ambetou o aurelia 7K Trovazio. Allora, buongiorno a tutti, quattro ottimi soggetti di seconda categoria, abbiamo scelto la prima perché rispetto a tutte le altre ha un'ottima monofologia e anche un'ottima mammella e una muscolosità eccezionale. Prima abbiamo messo Belleville a numero 12 di Champion di La Salle, seconda abbiamo messo la numero 65 J'adore di Bieler Davide di Presendidier, terza abbiamo messo la numero 66 di Letta di MC Moscemaura e quarta abbiamo messo la numero 16 Elisir di Pascal Fabio di La Salle. Grazie. Sicuramente è difficile fare una classifica e andare a cogliere delle differenze che sono minime, minime, minime. Comunque quarta classificata è la numero 16 Elisir. Se non l'ha presa bene e non è arrivata quarta. No, è già nell'Olimpo. Va bene, è premiata da Presidente della Comunità Bieler. Va bene, allora 58 Gemma, 56 Fata. Ciao! 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 Grazie a tutti.